Benvenuti nel primo spazio informativo di oggi. Amministrazione comunale di Trapani e associazioni di categoria provano a immaginare la normalità tra misure di distanziamento e ripresa delle attività di bar e ristorazione. E' questo l'argomento della notizia del giorno. Trovare soluzioni possibili per venire incontro alle esigenze del settore ristorazione. E' questo fondamentalmente il senso dell'incontro che si è tenuto a Trapani presso la sala Sodano di Palazzo Dalì. Hanno preso parte al tavolo di confronto l'associazione Ristoratori Trapanesi, l'associazione provinciale Cuochi e Pasticceri Trapanesi, CNA e Confartigianato che formalmente ne hanno fatto richiesta. Preliminarmente il sindaco Tranchida ha precisato che intendimento dell'amministrazione comunale istituire una consulta delle economie per lo sviluppo in modo da assicurare la futura partecipazione di tutte le associazioni di categoria e sindacali cittadine. In vista delle riaperture della ristorazione tanto auspicate, si è discusso delle modalità operative più adeguate per garantire ai ristoratori di poter lavorare all'aperto e ai clienti di sedersi a tavola in tutta sicurezza nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. La giunta Tranchida aveva già approvato la scorsa settimana atto di indirizzo per l'estensione del suolo pubblico fino al 200%, oltre a una serie di agevolazioni, con delibera di giunta numero 115 del 20 aprile 2021. Il confronto comunque ha portato le parti a decidere di proporre al prefetto la parificazione nella somministrazione all'aperto dei dehors concessionati, aperti su tre lati ma schermati con fioriere di altezza di metri 1,50. In merito alle disposizioni per l'estate, relative alla chiusura di alcune arterie stradali del centro storico, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, ristoratori ed amministrazione hanno concordato di ampliare l'area delimitata al traffico veicolare al fine di rendere sempre più green la zona antica della città. Al Baglio, previo accordo con ATM, anche la possibilità di realizzare una corsia preferenziale gratuita in via Ammiraglio Staiti. Ovviamente, chi vuole comunque parcheggiare sulle blu prossime al centro storico, dovrà contribuire, previa rivisitazione tariffaria dei parcheggi nel periodo estivo, alle perdite che ATM dovrà sostenere per la gratuità dei bus nabetta intensivi. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti nelle aree aperte, segnatamente i mastelli per la raccolta differenziata, è stata richiesta alle attività una maggiore cura degli stessi, lavandoli a cadenza regolare e rendendoli nostre meno invasivi possibile con schermature di anredo, mentre di contro la disponibilità dell'amministrazione comunale nel potenziare CCR mobili dedicati agli operatori che intendono fruire in particolari orari pomeridiani. Torniamo tra poco con tutti gli altri servizi. Porto Sicuro, iniziato lo sbarco a Trapani dei 455 naufraghi salvati dalla nave Sea-Watch nel canale di Sicilia, tamponi anti-Covid-19 prima di scendere a terra. Compagni violenti, due uomini denunciati dai carabinieri di Marinella di Selinunte per maltrattamenti in famiglia, distinte vicende con lo stesso esito, due donne ospitate in case rifugio con i figli. Noi aiutiamo il prossimo, iniziativa di solidarietà di Salvatore Martinez per offrire riparo con una tenda al migrante che da diversi giorni staziona davanti il suo negozio di Piazza Martiri d'Ungheria. Bimbi disabili, il Comune valuterà il servizio. Tranchida attiva il monitoraggio del servizio di assistenza igienico-sanitaria disponibile ad intervenire se emergono criticità, ma il servizio rimane in capo allo Stato. Per il calcio, tempo scaduto, nessuno ha annunciato di aver presentato una manifestazione di interesse per la nuova società, Trapani Calcio. Nel segno della memoria di Gian Giacomo Ciaccio Montalto e Sebastiano Tusa, la vela è tornata protagonista nell'Interland Trapanese, ne parleremo alle 14.20 nell'approfondimento. Ben ritrovati. La Sea-Watch 4, la nave dell'omonima organizzazione non governativa tedesca, Stamani è entrata nel porto di Trapani. Al Molo Ronciglio sono iniziate le operazioni di sbarco dei migranti. Ore 7.49. La Sea-Watch entra nel porto di Trapani dopo una lunga crociera di avvicinamento per attendere l'alba e l'organizzazione dei soccorsi sul Molo Ronciglio. A bordo della nave della ONG umanitaria tedesca ci sono 455 migranti, naufraghi, uomini, donne e bambini tratti in salvo in sei distinte e drammatiche operazioni in mare operate dalla Sea-Watch 4 a largo delle coste libiche. Persone che erano in mare, in balia delle onde, da tre giorni. Ieri, poco dopo le 18, l'assegnazione di Trapani come porto sicuro in cui operare lo sbarco. Giunta in porto sono saliti a bordo volontari della Croce Rossa, medici della Sanità Marittima e Aerea, personale medico e inferministro dell'ASP di Trapani e afferente al progetto europeo iCare. Sul Molo anche i dirigenti medici della Polizia di Stato. Obiettivo? Assicurare uno sbarco in sicurezza per i naufraghi e per il personale presente nell'area del Molo Ronciglio. Il personale sanitario, alle 10 del mattino, ha cominciato a somministrare ai naufraghi il tampone rapido Covid-19. Man mano che i tamponi vengono processati, i migranti vengono fatti sbarcare, a cominciare dai minorenni, la gran parte non accompagnati da adulti. Secondo le informazioni raccolte sul Molo Ronciglio, i minorenni sono 194, di cui 6 bambini, questi ultimi accompagnati dalle madri che sbarcheranno per evitare la divisione dei nuclei familiari. Sono 36 le donne a bordo della Sea-Watch. Tutti gli altri, uomini adulti, in una seconda fase, saranno condotti a bordo delle navi quarantena Splendid e Azzurra, alla fonda l'una di fronte alla costa meridionale, l'altra della costa settentrionale della città di Trapani, ormai parte costante dell'orizzonte sul mare trapanese. Nel porto di Trapani anche volontari di Save the Children e personale dell'UNHCR. Al Molo Ronciglio è arrivato e si è soffermato brevemente anche il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. Proseguiamo con la cronaca vessate da marito e compagno, due donne messe al sicuro dai carabinieri. A Castelvetrano due distinti interventi della stazione di Marinella di Selinut. Contro la violenza di genere. I carabinieri della stazione di Marinella, al termine di due interventi e degli accertamenti investigativi, hanno messo al sicuro due donne e i figli minorenni, accompagnandole presso un centro antiviolenza. I compagni delle due donne sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Il primo caso riguarda una donna di 50 anni, vittima nel tempo di violenze fisiche e verbali commesse dal marito, un Castelvetranese di 61 anni, gravato da precedenti di polizia. Nell'ultimo episodio di violenza, la donna è stata strattonata e colpita al volto alla presenza delle due figlie minorenni. Dopo aver esposto i fatti, la donna è stata accompagnata dagli stessi carabinieri presso il pronto soccorso, dove ha ricevuto le cure del caso. Nel secondo caso, i carabinieri hanno accertato una situazione simile dopo aver raccolto le dichiarazioni di una donna di 41 anni, minacciata e molestata verbalmente in diverse occasioni dal proprio compagno un mazzarese della stessa età, gravato da precedenti di polizia. La donna, scrivono i militari, era stata ridotta in un permanente stato di ansia e paura per la propria incolumità. Nel prossimo servizio parliamo di controlli a Pantelleria. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni per droga e denunciato 5 persone. 42 anni di origine palermitana ma residente a Pantelleria. I carabinieri della locale stazione lo hanno arrestato nel porto dell'isola durante alcuni controlli all'arrivo del traghetto di linea. L'uomo è apparso nervoso alla vista dei militari che insospettiti hanno proceduto a una perquisizione. Addosso, tra gli indumenti, nascondeva un panetto da 100 grammi di hashish. Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati trovati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il 42 anni è stato posto agli arresti domiciliari. Il giudice, dopo la convalida, ha disposto l'obbligo di dimora sull'isola e la presentazione tutti i giorni alla stazione dei carabinieri. Durante i controlli estesi ad altre zone dell'isola sono stati denunciati tre ragazzi per coltivazione di stupefacente in quanto detenevano presso le proprie abitazioni rispettivamente 37,22 grammi e 12 piante di marijuana. Nell'ambito dei controlli per il censimento di persone che possiedono armi sono stati denunciati una donna di 64 anni che ha omesso la denuncia di quattro fucili da caccia e una pistola, ereditati, e un uomo di 63 anni per porto abusivo di due fucili da caccia e per illegale detenzione di cartucce calibro 12. Facciamo una pausa e poi torniamo con le altre notizie. Iniziativa di solidarietà di Salvatore Martinez per offrire riparo con una tenda al migrante che da diversi giorni staziona davanti il suo negozio di Piazza Martiri d'Ungheria. Bimbi disabili, il Comune valuterà il servizio tra chi da attiva il monitoraggio del servizio di assistenza igienico-sanitaria disponibile ad intervenire se emergono criticità ma il servizio rimane in capo allo Stato. Tempo scaduto, nessuno ha annunciato di aver presentato una manifestazione di interesse per la nuova società del Trapani Calcio. Bentrovati, in apertura parliamo di una iniziativa di solidarietà nei confronti di un migrante che staziona in Piazza Martiri d'Ungheria a Trapani a prestargli appunto aiuto è stato un noto commerciante della zona. Da diversi giorni ormai un senza tetto di origini africane dorme all'aperto in Piazza Martiri d'Ungheria davanti ad una delle vetrine del negozio di telefonia on-off e questa mattina Salvatore Martinez titolare dell'attività commerciale nel centralissimo snodo viario di Trapani ha provveduto a montargli una tenda per offrirgli riparo ma il migrante al momento non sembra aver gradito tant'è che si è spostato nello spartitraffico della via Fardella standosene del tutto avvolto da una coperta e nonostante le diverse segnalazioni e l'intervento degli uffici del comune di Trapani il ragazzo continua a stazionare ormai da settimane nella trafficatissima Piazza Martiri d'Ungheria. Ad onore del vero tutti quanti si sono mobilitati dal sindaco, dalle forze dell'ordine ai servizi sociali, il 118 però guarda caso dopo qualche giorno questo ragazzo poverino è di nuovo qua. la cosa che fai, bisogna fare tutto qua dorme lì sotto il sole quindi abbiamo movimentato a tutti tutti quanti si sono messi all'opera ma nessuno riesce a toglierlo da qua quindi questa è una mia provocazione ironica che ho preso questa tenda l'ho messa lì per far sì che qualcuno di competenza faccia qualcosa per questo ragazzo perché nel 2021 è impossibile che vediamo ancora questi risultati dopo tanto buonismo che si parla in tv stamattina c'è uno sbarco a Trapani l'ho appreso dai social quindi sì va bene però non puoi abbandonarli così quindi io lancio questo appello a tutti quanti possano fare qualcosa per questo ragazzo quando ha montato la tenda cosa ha detto? mi ha detto cosa fare ti monta la tenda ma io tenda non ne voglio mi piace dormire lì ma non puoi dormire lì a terra sotto il sole non puoi fare i bisogni lì perché è impossibile c'è puzza di spogli qua davanti alla gente non lo puoi fare il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha incontrato alcuni genitori di alunni disabili con i quali si è confrontato rispetto al servizio relativo all'assistenza dei piccoli che frequentano le scuole elementari e medie due e distinte le linee di azione del comune il sindaco Tranchida le ha rese note in un comunicato ufficiale dopo l'ennesima protesta ieri di genitori e operatori che assistono ai piccoli disabili gravi come assistenti igienico-sanitari la prima linea di azione riguarda proprio il tema dell'assistenza igienico-personale Tranchida ha ricordato che il servizio prima affidato ai comuni come da parere del CGA è ora di competenza dello Stato quindi deve essere assicurato dalle scuole e non può essere caricato in capo al bilancio del comune Tranchida ha ricordato che sul tema ha sollecitato l'attenzione dei dirigenti scolastici e del prefetto in vero il servizio in molte scuole è ripreso, assicurato come prevede la nuova interpretazione del CGA dal personale ATA in pratica dagli assistenti scolastici cioè i bidelli circostanza ritenuta insufficiente da molti genitori il sindaco Tranchida da parte sua ha assicurato che il comune ha chiesto un monitoraggio all'ASP per una valutazione della qualità del servizio per eventualmente sostituirsi all'attività del personale ATA se ritenuto insoddisfacente sotto il profilo igienico-sanitario seconda questione stipendi e lavoro degli operatori della cooperativa appaltatrice che assicurava il servizio al comune Tranchida ha dato mandato alla ragioneria di pagare le ultime mensilità alla cooperativa da cui dipendono gli assistenti avendo avuto assicurazione che questi soldi saranno utilizzati per pagare gli stipendi arretrati insomma una mezza apertura da parte del comune ma subordinata ad una valutazione del servizio reso nelle singole scuole dal personale ATA hanno preso il via i lavori di manutenzione straordinaria per il restauro e il risanamento conservativo della torre campanaria del complesso di San Domenico le opere saranno eseguite dall'impresa Beton Mix SRL per un importo contrattuale di circa 34.000 euro a pianta ottagonale e con una splendida scala elicoidale con una scalina a chiocciola ed incastro tipicamente trapanesi la torre sorge nel punto più alto del centro da dove è possibile godere di una spettacolare veduta una volta ultimati i lavori il sindaco Tranchida punta a riaprire questa prima parte del complesso di San Domenico consentendo ai cittadini trapanesi e ai turisti di poter salire sulla torre campanaria in assoluta sicurezza come rimarcato dagli assessori Dario Safino e Rosalia Dalì l'amministrazione comunale di Trapani così come in numerose altre circostanze sta intervenendo per riconsegnare ai trapanesi una parte del patrimonio monumentale cittadino ereditato in stato di totale abbandono Rosalia Dalì e Dario Safino hanno poi annunciato che al termine dei lavori la visita alla torre sarà inserita nel circuito turistico monumentale a cui questa amministrazione sta lavorando adesso parliamo di economia i dati dell'occupazione nella provincia di Trapani già negli anni tra il 2015 e il 2019 avevano fatto registrare un costante segno negativo e già nel 2020 alla vigilia della pandemia i sindacati Cigelle e Cisle Will avevano proposto un piano di rilancio per il lavoro le cui linee guida ben si sposano con il piano di rinascita e resilienza del governo il servizio avevamo segnato all'interno della nostra piattaforma elementi di fragilità noti e datavici avevamo anche proposto delle linee per lo sviluppo che potrebbero essere riprese dal piano nazionale di rilancio e resilienza che mette a disposizione anche di questo territorio risorse importanti che possono essere utili a poter far ripartire il lavoro il lavoro che rimane il tema centrale non solo per la celebrazione di cui abbiamo parlato ma rimane il tema centrale per curare questo momento per curare l'Italia è un lavoro dignitoso il lavoro che qui registrava come si diceva già prima dati preoccupanti che potrebbe avere dati ancora più allarmanti quando finiranno i benefici delle risorse destinate al reddito al mantenimento del reddito noi ospichiamo e abbiamo chiesto che si vada oltre il 30 giugno per la cassa integrazione abbiamo bisogno di non sbloccare i licenziamenti perché ovviamente abbiamo necessità che la gente rimanga a lavorare però c'è un'opportunità importante che deriva dal PNRR che destina risorse pari al circa il 40% al meridione alle donne e ai giovani di questo territorio e quindi riteniamo che attraverso queste risorse si possa rilanciare davvero perché tante sono le necessità ma tante sono anche le opportunità Per gli appuntamenti di oggi sulla nostra emittente vi segnalo che alle 20.30 e alle 23 trasmetteremo l'incontro della serie A2 Old Wild West di Basket Trappala Canestro Trapani e Ravenna adesso diamo uno sguardo al meteo Nessuno ha annunciato di aver presentato una manifestazione di interesse per la nuova società del Trapani Calcio il servizio di Federico Tarantino Il gong è scoccato alle 13 in punto come annunciato dal comune di Trapani un termine che dava la possibilità a coloro i quali interessati alla rinascita del calcio a Trapani a tinte granata di presentare una manifestazione che rispettasse alcuni parametri prestabiliti dall'amministrazione comunale Nessuno ha annunciato la propria partecipazione all'avviso pubblico ma è atteso un comunicato da parte del comune che dica l'effettivo stato della situazione In caso di mancate presentazioni di manifestazione di interesse diverse sono le strade che potranno essere prese in considerazione Il dattilo sarebbe disponibile ad una cessione del club Il sindaco Giacomo Tranchida potrebbe però anche effettuare un nuovo avviso pubblico con requisiti inferiori rispetto a quelli precedenti oppure potrebbe procedere anche con un'assegnazione diretta Ettore Minore da tempo ha dichiarato di non avere più interessi sulla realtà calcistica trapanese René De Picciotto nel pomeriggio annuncerà le proprie reali intenzioni sull'eventuale investimento sul nuovo sodalizio Granata pare che sia prossima la definitiva comunicazione di una resa mentre resterebbe in piedi la sua operazione per il palazzo della Banca d'Italia di Piazza Scarlatti chiaro quindi che se qualcuno vorrà fare ripartire la macchina del Trapani sarà un soggetto non annunciato alla vigilia nelle ultime settimane sembrava avanzare un'ipotesi tutta trapanese ma contattato Gaspare Panfalone la smentita è stata netta e decisa è tempo adesso delle comunicazioni che diano speranze ai tifosi che attendono con trepidazione di rivedere la maglia Granata correre in campo ognuno dovrà fare la propria parte se realmente il calcio a Trapani avrà una nuova luce che dia di un calcio alle ombre protagoniste del recente passato Nel segno della memoria di Gian Giacomo Ciaccio Montalto e di Sebastiano Tusa la vela è tornata protagonista nell'Interland trapanese e questo l'argomento del nostro approfondimento di oggi Trapani città della vela uno slogan coniato all'indomani dei due atti della Coppa America del 2005 gli eventi che hanno visto il mare e la vela non sono mancati nel corso degli anni ma molto si può ancora fare tanti sono stati i cittadini che lo scorso weekend organizzato dalla sezione trapanese della Lega Navale italiana affacciandosi sul litorale di Trapani e Dere ci hanno sognato rivedendo un po' un passato nostalgico assai caro uno spot per la città che può crescere anche attraverso il mondo sportivo e quello della vela è una scelta culturale è una scelta culturale strategica di fondo è la cultura del mare è la cultura del vento Trapani è la città dei venti e anche quegli eventi entro virgolette che hanno insanguinato questa città e la nostra cultura un omaggio al giudice Gen Giacomo Cercio Montalto omaggio al futuro della cultura e del mare con il ricordo a Sebastiano Tusa è una candidatura naturale la vela e il mare sono strettamente collegate con la città di Trapani dunque la vela per noi è un messaggio in più non solo dal punto di vista sportivo consentitemi ma dal punto di vista anche del rilancio culturale di questa città che è faro che è ponte e che porta nel Mediterraneo lo sport poi è un linguaggio che aiuta unisce e supera anche le divisioni culturali antropologiche e anche quelle delle contrapposizioni tra i popoli contestualmente al campionato nazionale d'aria Ionio e Basso Tireno sono stati disputati il terzo trofeo Gian Giacomo Ciaccio Montalto e il primo trofeo Battaglia delle Lega di Sebastiano Tusa vinti entrambi da Blue Nose dell'armatore Luigi Ceravino competizioni dedicate a due figure che si sono spese per il territorio trapanese un percorso unico di storia accompagnato i velisti nel segno del vento da Trapani infatti le imbarcazioni nel corso della prova dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa si sono spostate a Capogrosso di Levanso teatro della battaglia navale delle Isolegadi conclusiva della prima guerra punica per poi passare ai faraglioni di Calaminnola dove oltre duemila anni fa si consumò una tragedia del mare con l'affondamento di una nave oneraria romana carica di anfore vinarie ancora presenti nei fondali sicuramente un luogo dell'anima possiamo dire perché lui su questa su questa isola sull'arcipelago dell'Egadi ha lavorato tantissimo e ha avuto grandissime soddisfazioni ha riscritto una pagina di storia disputare una regata un trofeo in suo nome secondo me è il giusto tributo e quindi io sono particolarmente emozionata e particolarmente lieta di questo di questo trofeo perché ricorda un grande uomo che ha dato tanto per la cultura per la sua terra e proprio in questo falce di mare che è Trapani con le isole Egadi ha creato il museo più grande del mondo il museo sommerso del patrimonio subacqueo e quindi forse ha dato tanto e tanto gli ritorna benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca la Sea-Watch 4 la nave dell'omonimo organizzazione non governativa tedesca stamani è entrata al porto di Trapani al molo Oroncio sono iniziate le operazioni di sbarco dei migranti il servizio di Fabio Pace ore 7 e 49 la Sea-Watch entra nel porto di Trapani dopo una lunga crociera di avvicinamento per attendere l'alba e l'organizzazione dei soccorsi sul molo Oronciglio a bordo della nave della ONG umanitaria tedesca ci sono 455 migranti naufraghi uomini donne e bambini tratti in salvo in sei distinte e drammatiche operazioni in mare operate dalla Sea-Watch 4 a largo delle coste libiche persone che erano in mare in balia delle onde da tre giorni ieri poco dopo le 18 l'assegnazione di Trapani come porto sicuro in cui operare lo sbarco giunta in porto sono saliti a bordo volontari della Croce Rossa medici della sanità marittima e aerea personale medico e infermieristico dell'aspe di Trapani e afferente al progetto europeo iCare sul molo anche i dirigenti medici della polizia di stato obiettivo assicurare uno sbarco in sicurezza per i naufraghi e per il personale presente nell'area del molo ronciglio il personale sanitario alle 10 del mattino ha cominciato a somministrare ai naufraghi il tampone rapido covid-19 man mano che i tamponi vengono processati i migranti vengono fatti sbarcare a cominciare dai minorenni la gran parte non accompagnati da adulti secondo le informazioni raccolte sul molo ronciglio i minorenni sono 194 di cui 6 bambini questi ultimi accompagnati dalle madri che sbarcheranno per evitare la divisione dei nuclei familiari sono 36 le donne a bordo della Sea-Watch tutti gli altri uomini adulti in una seconda fase saranno condotti a bordo delle navi quarantena splendide e azzurra alla fonda l'una di fronte alla costa meridionale l'altra della costa settentrionale della città di Trapani ormai parte costante dell'orizzonte sul mare trapanese nel porto di Trapani anche volontari di Save the Children e personale dell'UNHCR al molo ronciglio è arrivato e si è soffermato brevemente anche il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida proseguiamo con la cronaca vessate da marito e compagno due donne messe al sicuro dai carabinieri a Castelvetrano due distinti interventi della stazione di Marinella di Selinut contro la violenza di genere i carabinieri della stazione di Marinella al termine di due interventi e degli accertamenti investigativi hanno messo al sicuro due donne e i figli minorenni accompagnandole presso un centro antiviolenza i compagni delle due donne sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori il primo caso riguarda una donna di 50 anni vittima nel tempo di violenze fisiche e verbali commesse dal marito un Castelvetranese di 61 anni gravato da precedenti di polizia nell'ultimo episodio di violenza la donna è stata strattonata e colpita al volto alla presenza delle due figlie minorenni dopo aver esposto i fatti la donna è stata accompagnata dagli stessi carabinieri presso il pronto soccorso dove ha ricevuto le cure del caso nel secondo caso i carabinieri hanno accertato una situazione simile dopo aver raccolto le dichiarazioni di una donna di 41 anni minacciata e molestata verbalmente in diverse occasioni dal proprio compagno un mazzarese della stessa età gravato da precedenti di polizia la donna scrivono militari era stata ridotta in un permanente stato di ansia e paura per la propria incolumità a Trapani si ragiona sulla riapertura di ristoranti e bar tavolo di confronto tra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria trovare soluzioni possibili per venire incontro alle esigenze del settore ristorazione e questo fondamentalmente è il senso dell'incontro che si è tenuto a Trapani presso la sala a Sodano di Palazzo Dalì hanno preso parte al tavolo di confronto l'associazione ristoratori trapanesi l'associazione provinciale cuochi e pasticceri trapanesi CNA e confartigianato che formalmente ne hanno fatto richiesta preliminarmente il sindaco Tranchida ha precisato che intendimento dell'amministrazione comunale istituire una consulta dell'economia e per lo sviluppo in modo da assicurare la futura partecipazione di tutte le associazioni di categoria e sindacali cittadine in vista delle riaperture della ristorazione tanto auspicate si è discusso delle modalità operative più adeguate per garantire ai ristoratori di poter lavorare all'aperto e ai clienti di sedersi a tavola in tutta sicurezza nel pieno rispetto delle norme anti-covid La giunta Tranchida aveva già approvato la scorsa settimana atto di indirizzo per l'estensione del suolo pubblico fino al 200% oltre a una serie di agevolazioni con delibera di giunta numero 115 del 20 aprile 2021 Il confronto comunque ha portato le parti a decidere di proporre al prefetto la parificazione nella somministrazione all'aperto dei dehors concessionati aperti su tre lati ma schermati con fioriere di altezza di metri 1,50 In merito alle disposizioni per l'estate relative alla chiusura di alcune arterie stradali del centro storico dopo la positiva esperienza dello scorso anno ristoratori ed amministrazione hanno concordato di ampliare l'area delimitata al traffico veicolare al fine di rendere sempre più green la zona antica della città Al Baglio previo accordo con ATM anche la possibilità di realizzare una corsia preferenziale gratuita in via Miraglio Staiti Ovviamente chi vuole comunque parcheggiare sulle blu prossime al centro storico dovrà contribuire previa rivisitazione tariffaria dei parcheggi nel periodo estivo alle perdite che ATM dovrà sostenere per la gratuità dei bus navetta intensivi Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti nelle aree aperte segnatamente i mastelli per la raccolta differenziata è stata richiesta alle attività una maggiore cura degli stessi lavandoli a cadenza regolare e rendendoli inoltre meno invasivi possibile con schermature di anredo mentre di contro la disponibilità dell'amministrazione comunale nel potenziare i CCR mobili dedicati agli operatori che intendono fruire in particolari orari pomeridiani a cadenza di contro i CCR mobili di contro i CCR mobili Grazie a tutti.